Uno sportello del cittadino insolito, quello di quest'oggi, siamo con Pino Pitaccio, che dire, attore, uomo di vita, coordina l'organizzazione degli eventi che si tengono al Teatro Padre Turoldo di Taranto. Ecco, vedendoti Pino, mi è venuto questo pensiero, questa riflessione. Uomo di vita. Uomo di vita. Non frantendiamo, nel senso buono. Da un lato il palcoscenico, quello del teatro, dall'altro il palcoscenico della vita, il palcoscenico di Taranto. Ma come si vive a Taranto? Com'è questo teatro, questo teatro di Taranto? Il teatro di Taranto, il Taranteatro, quello del palcoscenico è meraviglioso. L'arentum theater, direbbero gli inglesi, no? Cioè, c'è signore... Teatro di Taranto. Cioè, il teatro di palcoscenico è qualcosa di meraviglioso, tu ne sei consapevole, è benissimo. La gente lo può immaginare, ma non lo può sapere dentro, cosa vuol dire essere protagonista di palcoscenico. E protagonista del teatro tarantino, oggi come uno del teatro di Taranto, di Taranto teatro, è un attimino diverso. Perché... Come si vive a essere attori a teatro? Non attori da palcoscenico, attori di quelli che... L'attore che suda la mattina per guadagnarsi il pane, a Taranto. Soprattutto in giornate come a questo, voglio dire che c'è... Ma dico, la vita di tutti i giorni, dell'uomo senza lavoro, dello studente, dell'anziano, del povero disgraziato. Non è assolutamente agevole, ci mancherebbe altro. Dovrebbe, come si vuol dire, aguzzare l'ingegno. Però io vedo, caro Luigi, che anche questo viene a mancare un attimino a Taranto. Il bisogno di solito aguzza l'ingegno, però... Qua sarà il clima, sarà... La diossina. Sarà la diossina, sarà che non c'è la faccia, mi chiedo proprio cervicalmente parlando. A Napoli si ingegnano. A Taranto no. Sono un tifoso napoletano. Io e Juventino, vabbè. No, 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 Napoletano... Anch'io adoro Napoli. Juventini, sì, madonna mia. Vabbè. Adoro veramente Napoli. Perché? Perché veramente si danno da fare. Si danno vera... Anche se non hanno, si danno da fare. Qua noi non abbiamo e ci diamo da fare. A Napoli si dice Yam Nanz, a Taranto no. Yam si dice a Taranto, ya. E vabbè. Comunque speriamo. Io sono fiducioso perché altrimenti non ci sarebbe modo di continuare. Altrimenti è triste la nottata. Ha da passare. A Taranto, a Taranto, a Taranto.